Settima edizione del trofeo Ischia Mare Cross qui dalla spiaggia della Chiaia, una due giorni che ha visto il sabato le prove libere nella giornata di domenica 12 febbraio. Dal mattino impegnati i piloti e i loro team prima per le prove cronometrate e poi per le due manche di gara per una giornata che come sempre ha regalato tanto spettacolo al pubblico, ai piloti stessi. Vediamo come è andata. Nella batteria del minicross i piloti più giovani, con Francesco Trotta e Alessia Di Luccia, entrambi del team Cerbone, che si sono divisi la posta in palio nelle due manche, arrivando comunque primi all'interno delle rispettive categorie. Tra i challenge, belle prove per i piloti ischitani che nelle due sessioni di gara mettono tutto il loro impegno ed entusiasmo. A vincere è stato Crescenzo Iacono, seguito da Vincenzo Mattere e Antonio Di Meglio, tutti del neonato motoclub Ischia Cross. Per i rider, a sorridere, è stato Andrea Piccariello del motoclub Shine Motorsport, seguito da Davide Pontecorvo e Antonio Raccio del motoclub Kumari Can Bike. Nei 125, successo per Amato Cattolico del motoclub Shine Motorsport, a completare il podio Ciro Coletta e Cesare Pio Strafile, entrambi del motoclub Cerbone. Tra i veteran, ad arrivare primo, è stato Tony Cerbone, leader del motoclub Cerbone Fashion Bike, seguito a ruota dal compagno di team Salvatore Angelone, terzo Mario Piccariello del motoclub Shine Motorsport. Nella batteria riservata, le classi MX1 e MX2, nell'arco delle due manche, grande spettacolo grazie alle prestazioni di Nicola Di Luccia del team Cerbone. Primo nella MX1 Fast, Luciano Blanchi, della FBA Power Sport, al primo posto nella MX1 Expert, a Ciro Tramontano del motoclub Kumari Can Bike, campione della MX2 Fast, e all'alfiere del motociclismo isolano Ciro Morgera, presidente del motoclub Ischia Cross, organizzatore dell'evento. E' stato un annesimo sforzo e sacrificio da parte del motoclub Ischia Cross. Noi siamo partiti con un dubbio enorme, visto la tragedia che ci è accaduta addosso, non eravamo convinti di farla per un rispetto per le persone, per chi non c'è più. Io conoscevo degli amici e non avevo più quello spirito di fare questa gara, però poi la richiesta c'era, i piloti volevano che si facesse e abbiamo puntato a farla. Io ogni anno mi impegno a correre, ma non lo dovrei fare perché tutta la settimana è un impegno lavorativo molto importante, mi spreco tante energie e la gara è colpo finale. Però mi fa piacere partecipare, io poi col pubblico ti dà carica e mi dà la forza per finire tutto. I piloti che meglio hanno fatto nelle rispettive categorie hanno poi ottenuto la possibilità di disputare una ulteriore manche detta super campione Ischia Cross, che ha visto ancora Nicola Di Luccia davanti a tutti, seguito da Michele Lorenzo Palumbo della FBA Power Sport e Luciano Blanchi. Ci tenevo molto a dedicare questa vittoria a una persona che penso che chi fa questo sport era conosciuto da tutti, il grande Pimmo Carrese, che lo portiamo con bene il cuore. Grazie.